Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del trinceerba a scoppio Bulmac Falk 600 L e ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il trinceerba a scoppio Bulmac Falk 600 L è concepito per rispondere alle esigenze di manutenzione di aree incolte e terreni complessi, caratterizzati da erba alta o infestanti. Equipaggiato con un motore Loncin G200F a 4 tempi da 196 cm3, offre una potenza nominale di 6,5 cavalli vapore, assicurando così prestazioni robuste e continuative anche su superfici difficili. Il rotore di taglio è dotato di 48 coltelli seghettati, organizzati in gruppi da tre, che consentono una trinciatura efficace e frammentazione ottimale della vegetazione. Con una larghezza di taglio di 60 cm, il Falk 600 L copre ampie superfici con una sola passata, migliorando la produttività grazie alla riduzione dei tempi di lavoro. L'altezza di taglio massima, anch'essa di 60 cm, garantisce una finitura accurata su ogni tipo di terreno. Le due marce avanti e la retromarcia offrono versatilità nelle manovre, mentre la possibilità di spostare la macchina in folle, senza accendere il motore, ne facilita l'utilizzo e il trasporto in sicurezza. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.